Sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e garage con impianti a norma e in zona stazione. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!